In questa nuova puntata di Piano Sequenza parliamo di una serie interessante, una serie giapponese intitolata The Journalist e trasmessa sulla piattaforma di Netflix. Ha per protagonista una giornalista testarda e determinata nel fare bene il suo lavoro che vuole far emergere un caso di corruzione e di truffa messo in atto da alti rappresentanti del governo e dell'amministrazione pubblica. Quali sono i punti interessanti? Innanzitutto il fatto che è evidente che la corruzione non è localizzata in determinati paesi ma è diffusa ampiamente e la lettura che ne viene data è ovviamente filtrata attraverso la cultura giapponese che per noi è caratterizzata da determinati elementi di definizione che qui emergono nella recitazione, nella costruzione scenica, nel montaggio, nella luce, quindi nella gestione della fotografia con piccoli e grandi dettagli stilistici all'insegna del minimalismo tipico dell'ambientazione culturale giapponese così come emerge dalle immagini. I comportamenti, la gestualità dei personaggi, il ritmo anche delle loro azioni, un certo anche meccanicismo nel fare determinate cose, sono tutte caratteristiche che conosciamo bene della cultura giapponese che questa serie mette bene in evidenza. Ciò nonostante questa originalità più che giustificata, il caso di corruzione è talmente coinvolgente e talmente emozionante che alla fine emergono ben distinte le caratteristiche psicologiche dei personaggi, le loro emozioni, i loro sentimenti che costituiscono un elemento di profonda connessione con il nostro mondo occidentale, per cui alla fine le passioni, il dolore, l'eroismo, la voglia di giustizia, la compassione sono elementi che ci accomunano come esseri umani. Quindi The Journalist è un'ottima occasione per confrontarsi da occidentali con la cultura giapponese trovando degli elementi in comune che sicuramente ci permettono e permetteranno a chi avrà l'occasione di vederla, di apprezzare questa serie The Journalist sulla piattaforma di Netflix. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao! Ciao!